Amici e amiche bentornati, ci torniamo di nuovo qui su ProSakelyManager2023 con il tour con la track, tappa numero 5, Pau Laruns, questa signori è una tappa importante perché vedete che c'è un gran primo della montagna, first category, un fuori categoria, quindi ragazzi stiamo parlando di 20 punti, dopo un gran primo della categoria ci sarà un gran primo del GPM terza categoria che assegna solo due punti, ma poi ci sarà un prima categoria che ne assegna altri 10, quindi non male davvero, noi proveremo a mandare in fuga Giulio Ciccone per la maglia Pua, a questo punto manderemo solo lui per la maglia Pua, mentre cercheremo magari con Schilmese e con altri di provare a fare, non dico classifica, perché comunque Giulio non ha molte speranze avendo Crono69 c'è poco da fare classifica, anche se c'è solo una Crono capite bene che può essere decisiva e anche stante il fatto che la recupero a 73 non è altissimo, Schilmese addirittura a 67 si trova molto meglio a Crono per esempio, comunque vediamo, sono andati bene gli scorsi episodi, quindi le tappe dalla 1 alla 4, quindi noi partiamo, vi ringrazio per quanto ci state mettendo nel canale, sono veramente molto contento, sono molto contento di portare, attenzione! Signori, non è più Lidl Trex e Gaffreddo, è Lidl Trex, l'aggiornamento è arrivato, l'aggiornamento non so se è quello di Word Database o quello di Forse Clean Manager, ci ha portato l'aggiornamento della maglietta, è ancora Trex e Gaffreddo, perché il nome purtroppo è rimasto fermo, ma la maglietta è quella della Lidl, quindi peccato perché ve l'ho detto non mi piace, vedetela qua, vedete, proprio lì, non mi piace molto, vabbè, ci sta, però almeno aggiornato, anche quella della Isra Premier Tech vedo che è aggiornata molto bene, hanno fatto dei piccoli cambiamenti, quindi ci sta, io andrei a vedere subito, non prenderei altro tempo, intanto fermiamo prima di far cavolate, dov'è Giulio? Giulian più uno, un po' poco Giulio, avviciniamoci, Ah ok, no, quelle in game sono ancora vecchie, adesso hanno aggiornato, vabbè, piano piano si aggiornano insomma, va bene, noi prendiamo Giulio Ciccone che è stranamente davanti, sono molto contento, quindi ci mettiamo subito così, dicevo ragazzi che avete veramente dato molto, siete stati molto vicini a questa serie, ho ricevuto tanti bei commenti, è bello, secondo me è bello proprio perché ci dà lo spunto di vedere la tappa che sta per avvenire quel giorno, vediamo che Luvel, che è il leader, la maglia gialla, ci sta seguendo perché abbiamo due minuti e 41, io provererei ad aspettare che qualcuno scappi, tipo Crass, e andiamo, con Giulio Ciccone, mentre dietro chiedo di gestire in autonomia, vediamo cosa riusciamo a fare con Crass, Qualcun altro attacco, vediamo che c'è Smith, c'è anche Giuliana Lafilippe, madre seranta, cioè Giuliana Lafilippe signori, vabbè, Barguil, non sono degli, non sono degli ottimi compagni di fuga, o meglio, sono degli ottimi compagni di fuga, rischiano di diventare dei compagni di fuga importanti, non so se ci mandano via a questo punto, Ne arriva Della Cruz, Lagac, Frail, brutta gente, posso dirlo brutta gente, ah, altri arriva anche Strong, Barguil, Lagac, non arriva, o Smith, è lui, ah no, c'è anche la maglia Pua, giustamente, giustamente, quindi siamo in dieci, con altri tre dietro, c'è un tentativo di attacco da parte di alcuni di loro, ma, se già, se già interrotto, direi, con Giulio Ciccone continuiamo a gestire la corsa, Dietro chi abbiamo? The Wolf, Isagir, Champussoin, attacca anche Grigard, chiaramente qui, chiaramente qui non è molto contento il gruppo di mandare via uno come Lafilippe, come è in classifica generale, anche lui a due minuti, a 20 secondi in meno rispetto a noi, quindi, ok, Proviamo a dare una mano concreta alla fuga, stiamo in tantissimi, eh, stiamo in tantissimi, qua c'è già il primo che è prima della montagna, ma è un punto, sinceramente mi interessa relativamente, qua attaccano però tutti, quindi, anche soltanto per rimanere attaccati agli altri, cerco l'attacco, poi rientro tranquillamente, E, wow, ok, ci faremo la tappa in fuga con Giulio Ciccone, sono molto contento di esserci riuscito a mandare in fuga Giulio, io direi che a questo punto noi non ci interessa fare quelli che tirano il gruppo, C'è qualcun altro per noi che lo fa? Siamo in guadagno rispetto al gruppo che ci sta lasciando andare, non tantissimo, ma ci sta lasciando andare, bisognerà mantenere le forze per quando sarà, perché non sarà semplice, non sarà semplice, è solo un più uno, quindi non ci dà un grosso boost alla resistenza, In realtà è già 76, è già una buona resistenza, ma abbiamo dei clienti molto complicati, cioè Giulio Leonardo Filippo, che anche lui punterà più che a fare classifica, punta alla maglia Pua, quindi sarà un problema, sarà un problema, e abbiamo comunque il leader della maglia, che ha solo 71, che verrà probabilmente scartato nelle prime fasi, o nelle fasi interlocutorie di questa salita, la col de su de, probabilmente a metà, quando c'è quel tratto in rosso scarlatto, il momento di massima scesa, non ci darà più problemi, rimarremo con i migliori, insomma, è un bel gruppetto di fuga, siamo in 13, brutti clienti, per il nostro Giulio brutti clienti, male direi, noi per adesso stiamo spendendo, ma non più di tanto, non ci interessa a trovare volante, assolutamente, penso che poi abbiamo preso dei punti con Ciccone, comunque, va bene, no, non è un problema, non è assolutamente un problema, non abbiamo nessuno per la maglia verde in questo momento, perché abbiamo fallito i primi, il primo traguardo, veramente per velocisti, i primi due, devo migliorare, devo migliorare, sì, devo migliorare assolutamente la gestione, non tanto della fuga, scusate per il suono, molesto, non tanto per la gestione della fuga, quanto per la gestione della, della, insomma, dell'arrivo, dello scatto, della volata in gruppo, siamo stati un po' sfortunati, però posso dirlo, andando a vedere cosa succede, un po' più indietro, qui ne andiamo per uno, sono tutti belli, tranquilli, a metà, a metà gruppo, ovviamente, quelli che possono riuscire a fare qualcosa sono, Simmons, Skillmerse, sicuramente, Pedersen lo perderemo, Stuvian ha un meno 4, che è un problema, devo prendere dell'acqua con Giulio, vado a prendere l'acqua, assolutamente, non lo faccio io, non lo fa lui in automatico, ok, stiamo per arrivare alla salita, quindi dietro sono, i ragazzi sono tranquilli, lasciamo tranquilli, tappa tranquilla, diciamo, in, nel gruppo per ora, poi vedremo, si dovranno gestire un po', tanto, ripeto, con la track non c'è nessuno che può veramente puntare alla vittoria finale, possiamo fare delle, delle ottimi, dei miei ottimi risultati, ovviamente, inizia la salita, ragazzi, iniziata la salita, vediamo come vanno su, vediamo, intanto, c'è la Felipe che tira, la cosa mi fa piacere, perché spenderà, e sta già mettendo un bel, un bel ritmo, eh, stanno già andando a un bel ritmo, ragazzi, stanno già andando a un bel ritmo, perché stiamo sprecando energia, eh, gialla, mica da ridere, evito di fare, di tirare troppo, perché la salita è lunga, la salita è lunga, sono 14 km la pendenza media del 7,6, quindi non è poco, non è poco, ragazzi, la massima è del 15, stiamo probabilmente adesso arrivando al tratto, eh, dei 15 che quasi, al tratto di massima pendenza, quindi, sta rispondendo molto bene Giulio, molto bravo, molto, sono molto contento, stiamo perdendo un po' dal gruppo, vediamo che della Cruz prova a impostare un ritmo proprio veloce, noi siamo lì con un Giuliano da Felipe, evitiamo di andare noi a fare da tiro, o proviamo noi a fare da tiro con, proviamo, noi siamo a 5 km dall'arrivo, proviamo, proviamo a impostare un ritmo, non dico forse nato, ma importante con Giulio Ciccone, non saremo gli unici a farlo, però, eh, perché anche Giuliano da Felipe è qui davanti e sta facendo questo lavoro, ora ci lascia un attimo la gestione, che lasciamo a nostra volta, perché non voglio arrivare troppo vicino, troppo affaticato, cioè, troppo affaticato, così lontano dall'arrivo, siamo a meno di 2 km dal gran primo della montagna, ora proviamo a 2 km a impostare il ritmo insieme agli altri, ci mettiamo davanti, dobbiamo prendere assolutamente il controtempo alla Giuliana da Felipe, che è sicuramente il, l'avversario numero uno da tenere d'occhio, siamo sotto al chilometro, occhio con l'attacco, eh, occhio con l'attacco, non partiamo troppo presto, ma non partiamo troppo tardi, abbiamo un'ottima accelerazione, noi dobbiamo sfruttarla, andiamo ora, andiamo ora, vai Giulio, vai Giulio, vai Giulio, a cannone Giulia, a cannone e la vinciamo noi, lo vinciamo noi, grande Giulio, ah, ragazzi, qua non mi frega nessuno, è veramente il mio pane quotidiano, passiamo come primi e siamo già secondi in classifica, dietro a Sean Pussoin, che purtroppo, arrivando dietro con noi, è riuscito a prendere dei punti, io credo che invece chi non abbia preso punti è proprio lui, eh, ah, la Felipe ha preso solo quattro punti, passa settimo, l'abbiamo preso in controtempo in maniera perfetta, ragazzi, che lavoro, che lavoro di Giulio, bravissimo, ora devi veramente riposarti, vediamo che stiamo, abbiamo, stiamo prendendo un po' di gente dietro perché sta prendendo l'acqua quando in salita, mi sembra corretto, Max Pedersen però sembra resistere, sì, sono riusciti già a scollinare, sono leggermente più dietro, quindi molto bene, Pedersen che resiste è un'ottima, è un'ottima notizia, è praticamente morto ma è riuscito a resistere, quindi not bad, bravo, bravo, vedete che la fatica è praticamente simile a quella di Ciccone che è in fuga rispetto a tutti gli altri, abbiamo solo 1 minuto e 50, quindi non è molto, non molto, dobbiamo cercare di arrivare quantomeno a questo, a Col de Marie Blanc o provare a passare davanti già al primo, però nessuno, guardate come nessuno va, attenzione, Champussuane e la Philippe partono, noi non li lasciamo andare, non li lasciamo andare, ovviamente provano, provano perché vogliono provare a scuotere il gruppo, a vedere chi tira, a vedere chi tira, non tira nessuno ragazzi, purtroppo non abbiamo nessuno da spendere, nessuno vuole spendersi, ora forse qualcuno riprova a mettersi, a tirare, è ripartito Crass, noi ripartiamo, ovviamente ripeto, questi sono attacchi che vengono fatti per chiedere a qualcuno di andare a tirare, noi proviamo con il nostro Giulio Ciccone a fare l'andatura a un minimo, vediamo che qualcuno ci dà una mano, no nessuno, molto bene, allora teniamo d'occhio i ragazzi davanti, se abbiamo riguadagnato qualcosa, siamo due minuti dal gruppo, che ne fa tempo si è completamente ricompattato, noi prendiamo l'acqua, Crass è partito, non ci facciamo fregare, partiamo anche noi, cerchiamo di arrivare addosso a loro, molto bene, molto bene, mi hanno preso proprio in contratempo mentre chiedevo l'acqua, ripartono un'altra volta e qui inizia a diventare difficile, perché siamo tutti qua, riparte ancora la Philippe, ma secondo me sono attacchi velleitari questi, noi ci mettiamo tranquillamente qui così, non perdiamo la ruota di nessuno, andate, vedete, sono attacchi velleitari che a furia di tirarli distruggono un po' la stamina dei ciclisti, prova ad andarsene della Cruz, prova ad andarsene, noi proviamo a rispondere per non rimanere indietro, proviamo a rispondere, stiamo davanti, stiamo davanti, quanto manca, un chilometro circa, vediamo se riusciamo a prenderci anche questi tre punti che buttali via, però dobbiamo stare attenti perché secondo me Frile ci frega, Frile ci frega, ah ci ha fregato, no no non ci frega, grande Giulio, passiamo davanti anche qui, siamo solo a un punto dalla maglia Pua, solo un punto ragazzi, solo a un punto signore e signori, not bad, not bad, però Shampoosan è passato anche in questo? No, no, siamo passati in due, attacco di Pello Bilbao intanto da dietro, è incredibile come sia l'unico rimasto Pedersen in gruppo, gli altri sono tutti fall, mamma mia ma non ci credo, ma anche Schellmuse, anche Simons, ah vedete quando lasciate gestire al gruppo, alla CPU, mamma mia ma cosa ha combinato, meno male che non facevo con nessuno di loro classifica, perché non mi è stato un problema, tanto qua continuano a ripartire, noi seguiamo gli attacchi perché cercare di spendere il meno possibile, e qui boh vediamo perché adesso inizia a essere un po' complicata la cosa, inizia a essere un po' complicata la cosa, vediamo se qualcuno ci dà cambio, nessuno, nessuno, e io chi sono? Il buon samaritano? Non tiro nemmeno io, qua però stiamo per arrivare all'ultimo campione della montagna, è importante, riparte Julian Ali Philippe, riparte in realtà tutti, noi ci accodiamo, molto banalmente, per spaccare meno barra rossa possibile, qualcuno è partito e nessuno gli ha risposto, in realtà tutti, in realtà tutti gli stanno rispondendo, ok, rispondiamo anche noi all'attacco, siamo a 5 km dall'ultimo campione della montagna, ragazzi, il gruppo dietro di noi è molto vicino, secondo me non lo vinciamo, ah, non è vicino di più, sono già qui ragazzi, sono già arrivati, sono già arrivati, noi con Ciccone cerchiamo di restare davanti, parte Bardet, parte Champuisana e la Philippe ripartono, noi cerchiamo di seguirli perché ci serve arrivare davanti, però Roman Bardet secondo me si andrà a prendere qualche problema nella montagna, io ve lo dico, Giulio Ciccone sta facendo molta fatica ma ci sta provando, prendiamo il gelino energetico perché Giulio ne ha bisogno, ne ha bisogno tremendamente, Roman Bardet davanti, passare anche non proprio per primi va bene, passare anche non proprio per primi va bene, siamo quasi sotto il chilometro e siamo quasi morti con Giulio, mannaggia, mannaggia, il gelino arriva ma è troppo tardi, Giulio si impianta, Giulio si impianta, stai davanti, provo a far qualcosa, vediamo se riusciamo a passare, no non riusciamo, purtroppo non riusciamo e quindi per un punto non siamo a Magliapua, per un solo punto, mannaggia, mannaggia Giulio, però ottimo risultato, ci siamo portati dove dovevamo, ora con, sempre con Ciccone, dobbiamo lasciare andare chi poi si andrà a vincere la corsa, intanto dispiace vedere qui, o meglio fa piacere vedere qui Carapaz, dispiace non saperlo già fuori dalle possibilità di vittoria perché si è ritirato nella seconda tappa mi sembra di questo Tour de France, peccato, lui è Eric Maas, peccato davvero per entrambi, in realtà Giulio Ciccone rientra nel gruppo di quelli che possono provare a far qualcosa, vediamo, mancano 7 chilometri ma non rispondiamo a questi attacchi, restiamo in scia, restiamo in scia, infatti stanno attaccando tutti gli altri, non ci sono più compagni di fuga, diciamo, che rispondono, prova a venire a parepentro, proviamo noi rispondere a questi attacchi, da par nostro proviamo a non mollare fino alla fine, eh ma questi se ne vanno, manca un chilometro all'arrivo e veniamo di provare a fare uno scatto, a vedere di arrivare insieme a qualcuno, vince, Pogacar, vince Pogacar, noi arriviamo ragazzi con il gruppone a circa una trentina di secondi di ritardo, penso ci sia la buono per tutti noi, Ciccone arriva a 27esimo, vediamo che Maas, se ne è l'ultimo, a questo punto gli chiedo di accelerare un po' a Maas e provare a guadagnare qualcosa perché è veramente 21 minuti, ma come è possibile? Maa, io non capisco, prova a chiedere di tirare, ma sono rimasti indietro tantissimo, per quale motivo? Qua la CPU ha fatto un po' come gli è parso, guarda, la CPU ha fatto un po' come gli è parso, lo scattone con Pedersen, si può cercare di arrivare il prima possibile, Eh, guardate, erano ancora i 10 km dall'arrivo qua ragazzi, ma per quale motivo? Boh, questa ora non la capirò, non l'ho capita e vabbè, me la spiegherò un domani forse il gioco se c'ha voglia, Ok, sì, ma si è rimasto indietro, facciamo prendere a tutti il gelino, Proviamo a farli scattare tutti, così, giusto per, arrivano con 23 minuti di ritardo, bah, è strana sta gestione della CPU, vabbè, noi abbiamo portato a casa quasi risultato perfetto, peccato che l'ultimo gpm, ma era troppo lontano, non sapevo, era troppo lontano, l'ultimo gpm è stato, siamo stati ripresi, però il primo fuori categoria Giulio Ciccone se l'è portato a casa, comunque, ottimo risultato per Giulio, che ha fatto 22 punti su 24, 34 disponibili, quindi bravo, bravo, purtroppo, vediamo se, in realtà non ne hanno fatti, in realtà, no, c'è un po' se ne hanno fatti ben 15, se no eravamo davanti, porca miseria, eh vabbè, non potevamo fare di più di così, quindi, bene, noi ragazzi ci salutiamo qui, oh mamma mia, prossimo, anche la prossima tappa è importante, però qui inizia a esserci il primo vero problema, 147 km, l'arrivo in salita, ed è un' prima categoria da quello che vedo, noi dobbiamo andare in fuga con Giulio e provare a farci il nostro 1, 2 e 3, il Tourmalet sarà molto difficile andarselo a prendere, ma la tappa numero 6 è la tappa del Tourmalet, quindi io vi do appuntamento a domani con la prossima tappa del Tour de France, la tappa numero 6, alla prossima, ciao a tutti ragazzi!